Un abbraccio, molto simpatico, ho ascoltato le sue dirette che sono veramente qualcosa di particolare, simpatia a non finire. Un abbraccio grande grande, un saluto a mio caro fratello, a mio caro amico, fratello Giovanni e Antonella, mi voglio molto bene. Un bacione, un abbraccio grande grande. Questa sera voglio farti un po' di compagnia con questa dolce musica. Per un momento chiudete gli occhi e viaggiate con me nel buio, qualche stella che magari brilla nel cielo, immaginate una notte così, come questa sera. Siamo, diciamo, ancora in fase vacanziera, che però le città sono ancora, non dico vuote vuote, ma insomma, non è che c'è quel gran movimento. Fate conto che siete in riva al mare, sentite le onde del mare, siete soloni, sentite quell'aria di sarsedini, quel profumo di pino silvestro. Troppo giusto, qualcuno magari riderà anche, ma quando siete al mare che sentite quel profumo di resina, pino silvestro, che ci volete fare? E quali? Troppo simpatico, bellissimo, mi piace. E sentite quel profumo lì in mezzo alla natura? È qualcosa di fantastico, ci siete appena voi. www.letteralmente.online www.letteralmente.online Ascolta in diretta a quest'ora, siamo le 23.45 Sì, stasera vi terrò in compagnia un po' di più, tra le mie papere e i miei sbagli, pardonatemi, mi faccio compagnia e faccio passare qualche minuto, almeno ridetto un po', dai.